Bormio e Livigno, protagoniste in Coppa del Mondo di sci alpino e nordico. Nelle prossime settimane l'Alta Valtellina ospiterà i più grandi campioni dello sport. A fine dicembre infatti a Bormio ci sarà la classica due giorni di sci alpino, mentre a gennaio si terranno le gare sprint di sci nordico di Livigno. Si parte con la kermessa sportiva più importante in Lombardia dopo il Gran Premio di Formula 1 di Monza con l'appuntamento Bormino dal 28 e 29 dicembre. Qui gli atleti migliori al mondo si cimenteranno nella discesa libera nel Super G sulla Stelvio. Il 21 e 22 gennaio invece a Livigno si terrà per la prima volta una due giorni interamente dedicata allo sci di fondo con gli specialisti delle gare sprint. E proprio la domenica andrà in scena la competizione sull'anello preparato con cura dagli organizzatori Livignaschi e già parzialmente aperto da fine ottobre. C'è grande soddisfazione da parte di Regione Lombardia e dalla Federazione Scistica Italiana. Si tratta di due eventi sportivi molto importanti che pongono la Valtellina al centro del mondo e che permettono di veicolare la nostra immagine anche al di fuori dei confini nazionali, afferma il presidente regionale Attilio Fontana. Il nostro impegno è sempre al massimo, spiega Flavio Roda, presidente della Federazione Scistica. La due giorni di Bormio è ormai una classica, l'abbinamento con Livigno è perfetto. La Valtellina sarà al centro degli eventi sportivi, da qui al Via delle Olimpiadi e anche oltre, assicura Antonio Rossi, sottosegretario regionale ai grandi eventi. Le gare di Bormio danno sempre molta visibilità al territorio e a tutta la Lombardia e quest'anno si sono aggiunte anche le due sprint di Scinordico di Livigno, sottolinea l'assessore regionale della montagna Massimo Sertori. Orgoglio e soddisfazione anche da parte dei sindaci di Bormio e Livigno, Silvia Cavazzi e Remo Galli.